Ciao ragazzuoli e ragazzuole, ben arrivati in questo nuovo video. Allora, è un video che sarà parecchio lungo, abbiamo tantissimi romanzi di cui parlare oggi. Sono tutti romanzi molto importanti, perché come avete visto dal titolo del video oggi parliamo di romanzi classici. E quindi ci sarebbe tantissimo da dire per tutti quanti i romanzi. Ovviamente non mi posso dedicare più di tanto a tutti quanti i romanzi, perché se no questo video dovrebbe durare tipo sei ore, credo. Perché sono veramente tanti, cioè io ne ho tanti qua e ne ho altrettanti iscritti. Quindi cercherò di essere il più veloce possibile e di darvi giusto due o tre notizie fondamentali su tutti quanti i libri. Per cercare, ecco, di, come dire, non tanto convincervi a leggerli, perché, cioè, non credo di essere io quella che vi può convincere o meno a leggerli. Ma magari di incuriosirvi, ecco, se non li avete mai letti o di farmi sapere, ecco, se li avete letti, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, che cosa ne pensate e via dicendo. E se li avete letti, magari di, appunto, andare a recuperare le ministerie televisive o meglio i period dramas che, appunto, a loro associo. Non mi dedicherò più di tanto a raccontarvi i period dramas perché molti di questi hanno tantissimi rifacimenti sotto forma di ministerie televisiva o di film. Ci sono degli autori che hanno scritto magari 87 romanzi, ma ce ne sono magari due in particolare di romanzi che hanno scritto che sono sempre quelli che continuano a rifare sotto forma, appunto, filmica o televisiva. Non so perché, piace, piace, ce n'è uno in particolare che ho appena letto che ne stanno per rifare un altro e, tipo, ne hanno fatto uno un paio di anni fa, io non so perché. E continuano, sempre quello, perché, cioè, quell'autore lì non so quanti ne ha scritti, poi c'era Dickens che ne ha scritti un trilione di romanzi, ma rifando sempre quello. E quindi, chiaramente, non mi posso dedicare più di tanto perché, appunto, sono altro che 6 ore 12 questo di videotentura e quindi diventa un po' tanto impegnativo. Però, ecco, sappiate che tutti questi romanzi hanno, comunque, un film o una miniserie o un film e una miniserie o più film e più miniserie. Comunque, potete recuperare più prodotti, appunto, televisivi o filmici e che altro? Poi mi farete sapere, appunto, qua sotto, poi nei commenti. Sono libri a cui tengo molto, quindi, ecco, come sempre io vi invito, gentilmente, alla gentilezza. Quindi, lo sapete, che io sono la prima che sono stata quella che ha promosso gli orrendi classici, quindi non c'è bisogno che voi mi diciate mi sono piaciuti tantissimi, sono tutti bellissimi, potete anche dirmi non mi sono piaciuti. Vi raccomando, sempre, per favore, c'è il non mi è piaciuto perché, ecco, perché, purtroppo, ho visto che questa tendenza del mi fa cagare è una cosa che si sta diffondendo non soltanto dalle, come dire, dalle mie parti, non tanto sotto i miei video di YouTube, perché i commenti si leggono pubblicamente, ma soprattutto in privato queste cose, so che piace molto farle, perché in privato, chiaramente, le leggo soltanto io. Poi sembra la matta che le dice, ovviamente, dici, ok, do, do sta alle prove, però, ecco, ragazzi, come sempre, mi raccomando, eh, cioè, io lo so che la maggior parte di voi non è così, però, sappiate che, appunto, qua, persone, ci sono, e quindi è bello parlare anche delle nostre differenze, il tipo, a me è piaciuto molto questo, a voi no, però c'è anche modo e modo di discutere di queste cose, e poi ci teniamo a dire che non è buttolino finito a male, ma è una maniera molto simpatica del mio corpo di dimostrare che ho vissuto un periodo parecchio stressante, quindi scusate se ogni tanto incerspicherò nelle parole, se scegliessi delle parole più semplici da pronunciare, forse sarebbe meglio, perché, purtroppo, appunto, questa sbobbone gigante sul labbro, che non posso neanche nascondere, che ci temo tanto a fare questo video, perché, perché è da settimane che penso a questo video, ancora non ero riuscita a girarlo, perché dentro di me dovevo essere super iperconcentrata, poi mi sono detto, senti, cioè, sono i classici, è qualcosa che ami, quindi cercherò di farlo nella maniera più tranquilla, pacifica del mondo, proprio come se fossimo, come se stesse girando un tea time, semplicemente parliamo, appunto, di classici, e non sto facendo un esame, quindi non devo star qui a raccontarvi tutto quanto, tanto durante un esame mi hanno chiesto anche un classico, e tralasciamo il fatto che non ho ancora adesso capito che cosa voleva che le dicessi io alla docente, ma va bene tutto, va bene tutto quanto. Comunque, ma io sono comunque amica dello scrittore che mi ha chiesto alla docente, nonostante, appunto, non abbia capito ancora oggi che cacchio voleva che io le raccontassi. Detto ciò, partiamo da questo, partiamo da questo, partiamo da questo malloppone, perché sono veramente tanti, e quindi da qualche parte dobbiamo partire, non sapevo bene da quale, ma direi da questo, ma perché ce l'ho qua davanti, che è la Fiera delle Manità di William E. Picks, che è in questa bellissima edizione dei Newton, qualcuno di voi mi ha scritto, grazie Penny, che tu sei una delle poche che non parla mai dei Newton, ragazzi io non parlerò mai male dei libri che costano poco, perché, cioè, siccome nessuno di noi pensa che qua sia, cioè, penso che di traduttori o super esperti della traduzione ce ne siano veramente pochi, che dire, se potete, che sapete molto bene la lingua di partenza, il mio consiglio è i libri leggeteveli in originale, quindi prendeteveli in inglese e via dicendo. Ci sono delle edizioni molto economiche, tipo i Wordsworth Classics, che costano una cavolata, hanno delle copertine che sono francamente abbastanza urende, ma a volte costano 2-3 euro, e quindi, cioè, voglio dire, chi se ne frega, i Newton in italiano costano poco, perché costano, questo qua, vabbè, 7 euro costava all'epoca, adesso ci sono alcuni che costano 4,90, 5,90, insomma, comunque sono romanzi che costano molto poco, però non fate l'errore di pensare che siccome qualcosa costa tanto, tipo un audio o quant'altro costa tanto, allora necessariamente è una traduzione più bella, perché non è detto, cioè, non è necessariamente vera una roba del genere, ve lo assicuro. Quindi, ecco, cioè, nel senso, cioè, comprate anche i Newton, nel senso che io li ho sempre letti, e mi sono innamorata della letteratura anche leggendo i Newton, magari alcuni di questi non avevano delle bellissime traduzioni, ma la letteratura inglese io l'ho amata lo stesso, e non solo la letteratura inglese, anche magari in delle traduzioni non bellissime, dopo magari uno, quando è che si li va a leggere in originale, che è sempre comunque, come dire, meglio, e se non può leggere in originale, non dico che non ci sia una traduzione migliore delle altre, per carità di Dio, però non è detto appunto che a casa editrice molto blasonata corrisponda necessariamente a una traduzione fatta con tutti i crismi. Detto questo, anche perché io poi non sono un'esperta dell'introduzione, quindi non sono io quella che vi deve fare questo discorso, però, cioè, smettiamo gentilmente di dire, ah, siccome costa 4 euro, per forza deve essere una vaccata atomica, deve essere un bruttissimo, orrendo, tutte cose, tutte cose, perché, cioè, questo lo trovo veramente di uno snobismo estremo, che non mi piace per niente come discorso. Quindi, che è il solito discorso del lettore snob, che è francamente rotto i coglioni e quant'altro, anche perché La Fiera delle Humanità, grande classico della letteratura inglese, lo pubblicavano a puntate sui giornali, e quindi, ecco, sui giornaletti, che dopo è stato pubblicato in volume. È stato pubblicato tra il 46.847 e il 848, William Makepeace, Taquerie, in certo senso, se vogliamo, anche il grande rivale di Charles Dickens, anche se è scritto un romanzo molto diverso da quelli di Charles Dickens, in cui le donne, dei meravigliosi angeli del focolare, forse tranne una, che è appunto quella che piace molto al pubblico della televisione, che gliela ripropone sempre, in questo caso, la protagonista del romanzo Rebecca Sharp, è invece quanto mai diverso da certe donne angeliche dei romanzi di Charles Dickens, è una donna molto arrivista, una arrampicatrice sociale fatta e finita, se esistesse un termine, come dire, più estremo di arrampicatrice sociale, sicuramente sarebbe adatto, se non mi ricordo male, nel film di Mira Nair, però non mi ricordo come era stato tradotto in italiano, c'era una tipa che diceva social climber, e l'altra le diceva not social climber, ma mountaineer, cioè, addirittura scalatrice di montagne, la definiva, per dire, che effettivamente era pure quello, cioè, pure quello le si adatta, Rebecca Sharp, perché è una ragazza molto povera, se non mi ricordo male, il padre deve essere pittore, una roba del genere, comunque, che non ha nulla, e che non guarda in faccia nessuno per riuscire a riottenere, a ottenere, come dire, uno stato sociale importante, ecco, William Peaks Taichery, lui ci racconta tutta una serie di personaggi che stanno attorno alla sua Becky, lo fa in maniera piuttosto diretta, in maniera sagace, anche feroce a tratti, non è mai, come dire, non ha mai il gusto del melodrammatico che ha Charles Dickens, non ha mai quel gusto un po' da sopopera di Charles Dickens, anzi, è molto sarcastico, è anche a tratti crudele, quando ci succedono dei fatti drammatici, sorvola molto su questi fatti drammatici, è un romanzo fortemente realista, perché è molto ben collocato nel periodo storico e nella Londra dell'epoca, e anche all'interno di alcune classi sociali, appunto, ben definite dell'epoca, di cui appunto ci viene raccontato infatti quali sono i vari ruoli sociali, William Peaks Taichery, chiamiamolo solo Taichery, che è più facile per me da dire in questo momento, ci racconta molto bene quali sono i ruoli sociali e cosa deve fare, chi appartiene a quel determinato ruolo sociale, e quindi è un romanzo molto importante per la letteratura realista. Ecco, nonostante io non abbia particolarmente amato la miniserie che mi ha tratto ITV pochissimi anni fa, quella che ho visto anche durante il lockdown, che ho trovato un po' agghiacciante, sono sincera, secondo me era molto azzeccata l'intro, che appunto era ambientata in questa fiera, in cui venivano mostrati tutti quanti i protagonisti della storia, che si muovevano in questo circo, anzi addirittura sulla giostra, se non mi ricordo male, sulla giostra dei cavalli, che effettivamente ci stanno, perché ci sono tutti questi personaggi che come si girassero in tondo, mossi da questa forza quasi incontrollabile, e appunto Takeri ce li racconta con questa, non lo so, cose con sbeffeggio anche, li prende anche un po' in giro, li tratta male i suoi personaggi, non ci tiene tanto ecco, non è come Dickens, Dickens ci tiene, vuole bene i suoi personaggi, ti tiene, Takeri no, Takeri dice guarda sti deficienti, è un po' così, e quindi, ma perché i suoi personaggi, tra l'altro non sono buoni, cioè è anche quelli buoni, perché Amelia per esempio, l'amica di Becky, Amelia è buona, però è così buona che alla fine risulta stucchevole, e anche a tratti forse un po' stupida, sono sincera, non solo Amelia ma anche Dobbin, che è innamorato di Amelia, ma è un po' l'innamorato respinto, il frenzonato, poi Dobbin, che poi è Johnny Flynn nella serie, ma se tu puoi frenzonare Johnny Flynn, ma tu sei il freno, mica mia, tu sei il freno, vabbè a parte questo, che poi non mi ricordo neanche chi faceva il marito d'Amelia, adesso che ci penso, sono quindi proprio dimenticabilissimo, quindi Johnny Flynn, tu non me lo frenzoni, e quindi ecco, io lo trovo un romanzo straordinario, lungo, immenso, c'è veramente tanto, è chiaro, è un romanzo ottocentesco, dell'ottocento inglese, è un romanzo in cui c'è l'autore che parla al lettore, però c'è tanto, c'è tanto e secondo me vale la pena, ecco, vale la pena che venga letto, poi, ce la posso fare oggi, comunque c'è storia, storia condizionata, uno dei miei preferiti, di sempre, por sempre, che è La donna in bianco, di Wilkie Collins, di questo esiste più di una miniserie, barra, fin televisivo, l'ultima di qualche anno fa, che me ne parlai anche, che è una miniserie in, tre, quattro puntate, se non ricordo male, che mi era piaciuta tantissimo, che vi si consiglio di recuperare, che era della BBC, La donna in bianco di Wilkie Collins, neanche, quante volte ve ne ho parlato, è uno dei romanzi più famosi di Wilkie Collins, è un romanzo anche questo, che è uscito a puntate, questo romanzo, Wilkie Collins, anche lui, amico di, amico nemico, di Charles Dickens, questo romanzo, è stato pubblicato, nella rivista di Wilkie Collins, nel 1860, ed ebbe un successo, straordinario, racconta la storia, appunto, di questo, di questo, di questo ragazzo, che deve andare a fare l'insegnante, a queste due, a queste due sorelle, che è appunto, questa, che è questo, Walter Hartwright, che però, a questo incontro, con questa donna, crede di aver visto questa donna, non lo so, è reale, è un fantasma, chi lo sa, e, dopodiché, il problema è che si innamora, di una di queste due sorelle, questa però, si deve sposare, l'altra sorella, Marianne, lo sapete, un personaggio, femminile, pazzesco, bisognerebbe fare un'analisi, dei personaggi femminili, di Wilkie Collins, cioè, io credo che Wilkie Collins, con i personaggi femminili, abbia dato, veramente, il massimo, cioè, i suoi personaggi maschili, spesso e volentieri, sono veramente, dei rimbambiti, fuori misero, o sono, eh, proprio, cattivissimi, eh, ma neanche cattivi, sono infidi, perché non è il classico cattivo, non è quello che, è cattivo e basta, che, ci goda a far del male, sono proprio infidi, sono quelli che, eh, eh, tramano, nell'ombra, eh, o che, eh, tramano, e che cercano, di, di, di far del male, alle, di, come dire, tramano, qualche intrigo, sono intriganti, ma, eh, non è quel, cattivissimo, quello che, vabbè, ce l'ha scritto in faccia, che è malvagio, come certi altri personaggi, di certi altri autori, appunto, in cui, praticamente, hanno già il nome, che li identifica come cattivi, quelli di Wilkie Collins, no, sono un po' più fini, come, come personaggio, appunto, come villain, e, e le sue donne, sono straordinarie, perché, spesso e volentieri, l'eroe buono, se non avesse, eh, avuto, l'aiuto, magari, appunto, di, di queste donne, non sarebbe andato molto in là, ecco, se Walter non avesse avuto, l'aiuto di Marian, in questo romanzo, non sarebbe andato molto avanti, sono sincera, Marian è, cioè, straordinaria, qui dice, il coraggioso Walter, la coraggiosa Mary, lui dice, l'impavida, di più, cioè, Marian è oltre, cioè, intelligente, è, cioè, sfrontata, è un personaggio, veramente, femminile, incredibile, Wilkie Collins, ha avuto per tanti anni, una relazione con una donna, non si è mai sposato, e, conviveva con questa donna, e, ha avuto un'ispirazione da lei, per tutta una serie di personaggi, femminili, pazzeschi, dei suoi romanzi, e questo libro, secondo me, è oltre, è un romanzo che, sì, ha tantissimi colpi di scena, è un romanzo che, attinge anche dal romanzo gotico, appunto, come vi raccontavo della trama, Walter che incontra questa donna, vestita di bianco, che cos'è, reale, un fantasma, chi lo sa, poi, a un certo punto, il cimitero, cioè, quindi ci sono tutti questi topoi, un po' del romanzo gotico, il manicomio, no, la pazzia, la follia, insomma, il tema del doppio, quindi, appunto, c'è questi topoi anche del romanzo gotico fantastico, ma, ci sono tutta una serie di colpi di scena, ma, sono, molto, come dire, moderni, ben inseriti, cioè, non c'è quel, è un po' troppo, fermete, fermete, perché mi stai un po' esagerando, no, cioè, vi assicuro che è tutto perfettamente congegnato all'interno dei romanzi di WikiCollins, di questo in particolare, cioè, la donna in bianco, secondo me, è veramente dei capolavori, non so se è il mio preferito di WikiCollins, perché ne ho ancora altri da leggere suoi, fortunatamente, se è comunque considerato il suo capolavoro, comunque uno dei suoi capolavori, insieme alla Pietra di Luna, un motivo c'è, ecco, questo è imperdibile, assolutamente imperdibile, della Daphne du Maurier, io vi ho preso soltanto questo, ce n'è più di uno, lo sapete, film, miniserie, quant'altro, la fate tantissimo, perché il capo respiratorio? Perché io anni fa, vidi una miniserie, che penso fosse in due puntate, con Matthew Rhys, che secondo me, perdonami Daphne, ha il finale che è migliore del finale del romanzo, I'm sorry, ma lo penso ancora adesso, il capo respiratorio racconta di questi, due persone, che si incontrano, sono John, che ve lo leggo da qua dietro, che è un miter riservato professore inglese, incontra il suo sosio perfetto, che è il conte Jean de Gué, si incontrano, e si scambiano di identità, in pratica, cioè si scambiano le vite, e quindi, praticamente, uno prende il posto dell'altro, rumori strani in questa casa, vi parlo di cose, come dire, intrighi, fantasmi, quant'altro, ma da che angoscia, e quindi, appunto, si scambiano di posto, in maniera, non propriamente, come dire, non è che si mettano d'accordo, succede qualcosa, per cui non è che si mettano propriamente d'accordo, ci troviamo in un romanzo di Daphne de Morier, lei lo sapete, spesso e volentieri, racconta appunto storie con un mistero sotto, vi racconta delle storie in cui gioca molto anche la psicologia, gioca molto il, anche qui c'è il tema del doppio, c'è appunto il, c'è il mistero, c'è il, c'è l'intrappol, qui in questo caso appunto c'è questo, ci sono tutta una serie di colpi di scena, c'è questa, come dire, esattamente come Rebecca, che c'era la personalità, c'era la seconda moglie che aveva, si sentiva addosso la personalità di questa donna, questa Rebecca, che era morta, ma in ogni caso pesava la sua persona come se fosse presente, come se fosse viva, qui è esattamente la stessa cosa, cioè John prende il posto di Jeanne, ma percepisce ancora la sua presenza, e quindi, cioè, deve prendere il suo posto, ma non può essere veramente lui, deve essere l'altro, ma l'altro, eh, era una persona non proprio per benissimo, ma non ve lo dico, perché non ve lo dovete vedere, poi, meraviglioso, cioè, secondo me, Jane Eyre, anche qui, anche qui, Jane Eyre, Charlotte Bronte, è un romanzo, sì, appartenente al, anche questo, all'età vittoriana, eccetera, appunto, ci trovano l'età vittoriana, è un romanzo straordinario, con, anche qui, degli elementi, che appartengono al genere gotico-fantastico, c'è questo personaggio meraviglioso, che è Jane Eyre, questa, questa ragazza che va a fare, l'istitutrice in, in questa, a questa ragazza, e, c'è questo personaggio, molto scuro, e, misterioso, del, del, Mr. Rochester, che c'è, che c'è da dire, penso che, non so se c'è qualcuno di voi, che non ha mai letto Jane Eyre, però se non l'avete mai fatto, secondo me, è uno di quei romanzi, veramente, che è impossibile da, da, cioè, da non leggere, ecco, stranamente, è uno di quei libri, che non so voi, ma non so perché, non viene mai consigliato, come lettura estiva, cioè, ha dei ragazzi del liceo, al posto di consigliare certi libri, e non so perché, per esempio, non consigliate, non so, Jane Eyre, tipo, consigliano spesso, il giro del mondo in 80 giorni, con tutto il rispetto per Gilles Verne, per carità di Dio, ma un romanzo come Jane Eyre, no, che secondo me, Jane Eyre, è un libro che ti tiene, di più incollato alle pagine, rispetto a un giro del mondo in 80 giorni, personalmente, io ritengo, e poi non lo so, però, o a un capo respiratorio, cioè, perché tipo Daphne de Moria, e nessuno sa la caga, o Wilkie Collins, cioè, Wilkie Collins, perché non si studia a scuola, ecco, e Jane Eyre, cioè, Jane Eyre è straordinario, cioè, io lo trovo veramente, un romanzo di una modernità incredibile, un'eroina che è modernissima, che, cioè, che prende, risponde, che decide della sua vita, che, che, quel discorso bellissimo che fa a Rochester, ad un certo punto del, del romanzo, no, quando, quando, non ve lo dico se alcuni di voi l'hanno letto, che, che lei prende e gli risponde, cioè, lei è, cioè, lei è straordinaria, io lo trovo un personaggio meraviglioso, che non posso stare qui a parlare di più, perché se non l'avete letto, non mi va di rovinarvi, appunto, il, il romanzo, però, sì, sì, ci sono alcune, come dire, snodi simili, no, a tanti altri romanzi dell'epoca, del tipo, mamma non mamma, eh, del tipo, dove sta il mistero, dove sta l'inghippo, è chiaro che poi c'è il mistero sotto, c'è appunto quella cosa del, eh, che riprende del romanzo gotico, del, c'è successo qualcosa nel passato, ma non si sa che cosa, però, ma no, punto per questo, cioè, tu finché non scopri che cos'è che è successo, stai lì, stai lì e non riesci a smettere di leggere questo romanzo, mamma mia, è stupendo, ah, questa è Allegria portami via, allora, secondo me questo è un autore, eh, straordinario, bellissimo, che ad un certo punto della sua vita ha preso un colpo in testa, ha scritto un romanzo, che fin dei conti finisce bene, poi, ha deciso invece di scrivere tutta roba che finisce malissimo, ha detto, quanto male posso riuscire a far finire un romanzo, io non li ho neanche letti tutti i suoi che ha scritto, eh, però, secondo me, lui ha deciso sempre di calare, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, e, oggi, perché vi parlo di test dei Dabberville, perché Thomas Ardita, autore straordinario, assolutamente, eh, lui, un portatissimo autore dell'età vittoriana, eh, allora, durante l'età vittoriana, tutta una serie di autori, allora, l'età vittoriana, sappiamo che a tanti autori hanno deciso più o meno di criticarla, cioè, quasi tutti l'hanno fatta in maniera ironica, eh, come dire, cercando, criticandola, però, eh, buttandola un po' in mezzo in cacciara, del sipo, sì, te la critico, però, non è che ci vado giù pesante, dicendo, che età di merda che è l'età vittoriana, non lo faccio proprio così brutalmente, poi è arrivato Thomas Hardy, che dice, no, no, non avete capito niente, lo faccio io, e, ha iniziato così, a calar l'asso, e dice, vai, lo faccio io, voi non lo fate, lo faccio io, e Thomas Hardy, ha deciso proprio di dire, a me sto periodo, ci mi fa cagare, io la odio, la vicina vittoria, è deciso di massacrare tutto quanto, è stato fatto un'altra età vittoria, vabbè, questo è un discorso lungo, chiaramente, se io ve lo sto raccontando un po' così, alla cavolo, è chiaro che sarebbe un discorso, decisamente, da approfondire, però sì, Thomas Hardy, non, come dire, non ci va molto leggero, per quanto riguarda, l'età vittoriana, per quanto riguarda, la situazione che vivono, determinati personaggi, appunto, in questo periodo, soprattutto, soprattutto, come dire, più deboli, ecco, in questo caso parliamo, appunto, di una ragazza, che è Tess, che, che, non, che vive, in una situazione, parecchio, complessa, difficile, non, non vi dico nulla, ecco, non mi sento, di dirvi nulla, si ritrova, intrappolata, in una situazione, piuttosto, complicata, cioè, Tess è una ragazza, piuttosto, innocente, se vogliamo, anche ingenua, che, insomma, crede, di poter, come dire, innalzarsi, dal suo status sociale, ma, invece, no, invece, al posto, di ottenere, qualcosa, da, da questo, da questo cugino, eh, trova che se ne approfitta, e, quando, eh, crede, di riuscire a, eh, trovare un'altra persona, che possa salvarla, e che possa aiutarla, e che possa, eh, riscattarla, da quanto è successo, eh, viene, di nuovo, eh, abbandonata, un'altra volta, a se stessa, e a quanto, a suo, a suo destino, poi lei, in quanto donna, figuriamoci, ovviamente, cioè, non, le donne, nell'età vittoriana, o tutte sante, o tutte puttane, non è che ce l'ha tanto da, da gelaccio intorno, quindi, beh, Thomas Hardy, lo trovo uno scrittore, straordinario, di Tess de Darbyville, esiste un film, molto bello, con Natasha Kinski, esiste anche una serie televisiva, molto bella, con, Gemma Arterton, stupenda, che vi consiglio di recuperare, non mi ricordo se era in 3-4 puntate, c'è anche un film bellissimo, tratto da Giù dallo scuro, con Christopher Eccleston, e Kate Winslet, anche quello, è un romanzo, meraviglioso, ma è devastante, cioè, se Tess de Darbyville, è pesante, perché, Tess, veramente, vi spezza il cuore, Giù dallo scuro, non so qual è che ha scritto prima o dopo, secondo me Giù dallo scuro ha scritto dopo, quindi, cioè, per questo vi dico, è sempre peggio, ho detto, ma, Tess de Darbyville, mi sembra di aver dato il peggio, no, aspetta, penso di poter fare un po' peggio, e si sbom, un'altra volta, e via giù che calma, posso parlarvi di qualcosa di allegro, parliamo di qualcosa di allegro, parliamo dell'amatissima Jane, ma molto velocemente, Jane Austen, vabbè, esistono 8 trilioni di serie televisive, film e quant'altro, qua vi ho recuperato, Orgoglio e Pregiudizio, di cui esiste la famosissima miniserie, in 7 puntate della BBC con Colin Firth, lo sapete, ormai, è inutile che stiamo qui a discutere nel film del 2005, di Joe Wright, c'è chi è del partito di uno o dell'altro, so che vi dividete, partito uno, partito film, partito serie, vabbè, non stiamo neanche parlando di Orgollio e Pregiudizio, questo ve lo nomino solo perché è appena uscito il film, che io non ho ancora visto, che è Persuasione, ma di cui se ne è parlato in appuntanza, in uno dei miei gruppi Telegram, e credo che a questo punto non lo guarderò tipo mai, quel film tratto appunto da Persuasione di Jane Austen, romanzo straordinario, l'ultimo che ha scritto Jane Austen, tra l'altro il mio preferito in assoluto, quindi già che me l'abbiano toccato in peggio, sto andando fuori di testa, se non avete mai letto Jane Austen, se volete iniziare a leggere Jane Austen, non so neanche da, cioè non so neanche dirvi da cosa iniziare, da quale iniziare di Jane Austen, se andare in fila, non saprei, cioè onestamente forse vi direi iniziate da Emma, posso così, spassionatamente, cioè un romanzo che vi dico, la prima volta che l'ho letto Emma, non l'ho mai tantissimo, ma a rilettura, quando l'abbiamo riletto col club di Jane Austen, invece l'ho amato molto, e ho amato molto il personaggio di Emma, trovo che sia un personaggio molto sottovalutato, il personaggio di Emma, e trovo che sia un romanzo in parte molto sottovalutato, invece è un romanzo molto molto bello, e quindi vi consiglio di recuperarlo, e la trovo, delle letture sempre molto piacevoli, io trovo Jane Austen sia, più Jane Austen per tutti, ecco, come diceva un personaggio del film, del club di Jane Austen, meraviglioso, ah, veniamo a lui, sì, così dopo vi porto anche questo trio qua di, e via, allora, Charles Dickens, Charles Dickens, cioè non so quanti Charles Dickens hanno mai trasposto per la BBC, tipo quasi tutti credo, ne hanno veramente trasposti tantissimi, David Copperfield ha avuto film e serie televisive, insomma ce ne sono veramente tantissime, perché vi ho portato David Copperfield, perché sapete che è uno dei miei romanzi preferiti in assoluto di Charles Dickens, io in realtà sono onesta, per me David Copperfield è un romanzo da Natale, più che da estate, però, cioè io, appunto, per me il classico fa più copertina, ma appunto dipende, ognuno ha il, come dire, è del suo, è dell'opinione, infatti, questo è ancora quando io compravo le giovedibili, perché questo l'ho comprato a novembre 2010, e l'ho letto a Natale del 2010, sto libro, Charles Dickens, autore importantissimo, dell'età vittoriana, sta anche qui, potremmo fare, non lo farò un video soltanto per Charles Dickens, lo giuro, è un autore, non saprei, qua potrebbero stare a lavorare di 12 ore di Charles Dickens, è un autore importantissimo, che ha scritto veramente tanto, che ha fatto di Londra, la grande protagonista dei suoi romanzi, che è amata e odiata, come città, come società, come tutto ciò che è successo, che l'ha contraddistinta negli anni in cui lui l'ha vissuta, c'è tutto, c'è veramente tutto nei suoi romanzi, c'è il riscatto sociale, c'è invece le brutture della società, c'è il cercare, di uscire da situazioni scomode, e dal voler diventare qualcuno, non soltanto da voler diventare qualcuno, ma anche dal voler migliorare se stessi, c'è di tutto e di più, c'è un'umanità immensa, dalla classe sociale più bassa, alla classe sociale più alta, e dal fatto appunto che non necessariamente ha nobiltà, come dire, cioè che ha nobiltà, corrisponde necessariamente poi a nobiltà d'animo, ecco, C'è Stichel ce lo dice spesso e volentieri questa cosa, è un narratore incredibile di storie, a volte fin troppo, perché ci sono dei romanzi in cui ci sono veramente tantissimi personaggi, come appunto il nostro comune amico, che è l'ultimo che ho letto suo, addirittura anche Harry James, un certo ha detto, disse che forse quel romanzo era un po' too much, perché c'è veramente un numero assurdo di personaggi, di situazioni, però Dickens è così, cioè è molto teatrale anche, ma lui amava anche molto, cioè lui stesso era molto teatrale, infatti sapete, ve l'avevo raccontato in un video, che per esempio, per quanto riguarda il canto di Natale, lui stesso andava a fare le letture, no, del canto di Natale, al momento in cui leggeva il racconto, impersonava tutti quanti i personaggi, quindi, che doveva essere uno spettacolo, perché non avevano inventato ancora le riprese all'epoca, cazzarola, cioè che roba doveva essere Charles Dickens, che leggeva il canto di Natale, madonna, cioè io non ci posso pensare, cioè dovessero inventare la macchina del tempo, una delle cose che farei sarebbe questa, cioè nonostante mi stesse sul cazzo, la regina Vittoria, nell'età vittoriana, per andare a vedere a teatro Charles Dickens, che leggono il canto di Natale, è pazzesca questa cosa, essere stata una cosa, non so, veramente da, cioè da pelle d'oca, e quindi ecco, lui è così, lui è esagerato, nel rappresentare tutte quante, come dire, le emozioni umane, non è, cioè non è Wilkie Collins, come dicevo, Wilkie Collins, sì, ci sono i colpi di scena, però è molto più posato, se vogliamo, è molto più, è meno esagerato, Charles Dickens invece, è di più, è molto di più, basti pensare, appunto, a quel romanzo, che tutti quanti, cioè ogni due anni, devono rifarlo, non so per qual motivo, piace così tanto, che è Grandi Speranze, è un romanzo stupendo, e quando mi dicono, quali sono i tuoi preferiti, di Charles Dickens, io non so mai, quale dei due scegliere, perché io li amo immensamente, e amo molto questo, perché per esempio, in questo romanzo, c'è un personaggio femminile, che non è il suo classico, angelo del focolare, come in questo, per esempio, dove appunto, cioè, David Copperfield, ci deve un po' arrivare, no, che, si innamora di una persona, ma, cioè, quell'altra, che, qui invece, c'è Stella, e Stella è un personaggio, molto più sfaccettato, molto più complicato, come personaggio femminile, rispetto appunto, ai personaggi, presenti in David Copperfield, e, anche se, aspettate, l'avevo sottolineata? Aspettate, aspettate, sì, no, la fine, sì, vedi, me la ricordo ancora, anche se, la fine, le ultime parole, che David, dedica, alla moglie, ciao, cioè, addio, sono di una bellezza, incredibile, ma Stella è un personaggio stupendo, e la storia di, di Philip, Pip, che, appunto, è questo ragazzo, che cerca il riscatto sociale, in tutti i modi, è un personaggio, anche, parzialmente, negativo, se vogliamo, non ha delle sfaccettature, cioè, è più complesso, rispetto a David, David è più buono, David è un personaggio, è una storia di formazione, anche, quella di Grandi Speranze, ma, è già, diversa, come storia di formazione, è già più complessa, è già più matura, ci sono dei personaggi, che sono già più, difficili, poi c'è, il personaggio, meraviglioso, di Miss Evisham, che anche qui, ha quell'elemento, un po' gotico, il personaggio, di Miss Evisham, cioè, questo, secondo me, è un romanzo, bellissimo, cioè, io, un romanzo bellissimo, che voglio di rileggerlo, David, mi sa, una voglia di rileggerlo, stupendo, non so, me lo porto dietro, in montagna, me lo rileggerlo, porca miseria, cioè, secondo me, è stupendo, veramente, è stupendo, e, tra l'altro, vabbè, di Charles Dickens, lo sapete, cioè, ne hanno fatte, veramente, tantissime trasposizioni, qualche anno fa, la BBC, fece un esperimento, che gli bloccarono, di chi ho santo, fece un esperimento, gigantesco, cioè, mandò in onda, una serie televisiva, 18 puntate, credo che fu, che si chiamava Dickensians, in cui metteva, in scena, tutti, cioè, tutti i personaggi, comunque, tantissimi personaggi, di tutti i romanzi, di Charles Dickens, e li connetteva, tutti quanti, cioè, una roba, incredibile, cioè, quello era il sogno, del fan di Charles Dickens, il problema, è che, era, fu la programmazione, perché, era sotto Natale, tra l'altro, quell'anno fu magico, fu l'anno magico, della BBC, secondo me, perché era, il 2000, l'anno tra il 2015, e il 2016, di 50 anni in onda, delle, dei period dramas, della Madonna, tra cui, appunto, anche questo, e, fu pazzesco, fu pazzesco, c'erano tutti i personaggi, cioè, tu lo guarda lì, e dicevi, tu sei di quella storia, tu sei di quel romanzo, anche personaggi minori, eh, dei suoi romanzi, e quindi, come dire, alcune storie erano, non mezzo inventate, però, estrapolate, diciamo, dal romanzo, cioè, nel senso che, alcuni personaggi, erano mezzi citati, e quindi, te li andava a beccare, tipo, mi raccontava la storia di Miss, sapete, Miss Evisham, che è vestita la sposa, perché era stata abbandonata, sull'altare, ecco qui, e, cioè, in The Kansas era rappresentata da giovane, e quindi, cioè, era pazzesco, era pazzesco, era bellissimo, e però me l'hanno chiusa, tipo, alla fine, cioè, me l'hanno chiusa subito, perché, effettivamente, era un po' complessa come serie, però era bellissima, me la devo scaricare, me la devo riguardare, sono triste, poi, Casa Howard, non se ne parla mai di Casa Howard, non so perché, e neanche di Edward Morgan Foster, non salta mai fuori, quando si parla di, non so, di letteratura, e di grandi classici, purtroppo, si parla sempre di un altro, di Edward Morgan Foster, di cui parlai anche io, che fu Camera con Vista, che effettivamente è una lettura meravigliosa, da fare secondo me, soprattutto in questo periodo, in cui si va a fare i turisti, Camera con Vista, sapete che è ambientato, parzialmente a Firenze, quindi vi consiglio di recuperarlo, perché è bellissimo, secondo me ne parlai, non mi ricordo se nella puntata, del podcast, sì, nella puntata del podcast, dell'anno scorso, di giugno e di luglio, però ecco, vi consiglio assolutamente, di recuperarlo, allora, Casa Howard, secondo me, è un po' più complessa, come storia, perché, fa un pelo più di, allora, se Camera con Vista, è un po' più giocoso, gioca anche su tutti questi scherzi amorosi, e quant'altro, Casa Howard, invece, tira in ballo, anche tutta una serie di critiche sociali, e, si rifà in parte anche, perché si ispira in parte alle, per le due protagoniste del romanzo, alle due sorelle Wolf, perché, qui le protagoniste sono Margaret e Ellen, che sono queste due sorelle, che fondamentalmente vivono di rendita, quindi possono fare quello che vogliono, ma la storia non riguarda soltanto queste due sorelle, ma anche le altre due famiglie, che sono il, aspettate, i Bast, che sono una famiglia della lower class inglese, e i Wilcox, che invece sono questi ricchi capitalisti, ora, tutte queste tre famiglie, gli Schlegle, che sono le due sorelle, i Wilcox e i Bast, sono tre famiglie che apparentemente hanno nulla in comune, ma le loro storie si vanno a interconnettere, per varie vicende che poi accadono nel corso del romanzo, e c'è appunto questa Casa Howard, che è un po', come dire, quella che dopo connette, queste, tutte queste vicende, che sarà un po', cioè non soltanto, che divide e connette queste famiglie, e è un romanzo appunto che, a differenza, vi ripeto, di quello che faceva Camera con Vista, fa molta critica sociale, e che, vi racconta, di tutta una serie di privilegi, e di invece, situazioni, e di problematiche, che invece vivono, le differenti classi sociali, dell'Inghilterra di quest'epoca, ecco. Il romanzo è stato pubblicato, più o meno nel 1910, se non mi ricordo male, quindi ci troviamo nel pre, prima guerra mondiale, è un romanzo molto bello, con un tono decisamente diverso, da quello di Camera con Vista, con un saggio di Virginia Woolf, questo, che io non mi ricordo di aver letto, tra l'altro, quindi, quindi credo che adesso me lo leggerò, anche questo, comprato e letto, nel 2008, non mi ricordo, cioè, me lo, allora, sono onesta, di questo vi volevo parlare, nel video precedente, quello del 5 più 1, romanzi letti d'estate, perché questo, è datato 13-6 del 2008, perché io mi ricordo, di averlo comprato, mentre studiavo all'università, e di averlo anche letto, mentre studiavo all'università, perché mi hanno presa la fissa, di recuperarmi, tutta una serie di romanzi, che appunto non avevo letto, ma, ma me l'ero tenuto per questo video, perché ho detto così, non mi ripeto, non ve lo sto a riraccontare un'altra volta, anche di questo, potremo stare qui a parlare, tre quarti d'ora, ma eviteremo di farlo, appunto, perché se no, finiamo dopo domani, finiamo sto giro, di non di il video, finiremo mai più, questo video, adesso devo correre ragazzi, perché se no non ce la fanno più, di questo parlerò, in maniera molto veloce, i miserabili, di cui esiste la musical, di cui esiste anche una miniserie televisiva, della BBC in 6 puntate, che non so se avete visto, se non l'avete visto, vi prego recuperatevele, grazie tantissimissimissimo, ho finito il trio, comunque, nel caso qualcuno di voi abbia capito, come mai abbia connesso questi tre romanzi, me lo può anche scrivere qua sotto, abbiamo qualcosa in comune, che è un attore che ha partecipato a una miniserie, a tre miniserie, BBC, ok, ce l'abbiamo fatta, allora, Miserabili, grande mattonazzo della vita, amatissimo, meraviglioso, non so più neanche come dire, leggetelo, vi prego, perché è di una bellezza incredibile, di un'umanità straordinaria, un romanzo immenso, in cui c'è raccontato di tutto e di più, c'è dolore, disperazione, amore, speranza, c'è, è tipo, non lo so, penso uno dei romanzi più belli, che siano mai stati scritti, è complesso, è lungo, ci sono delle parti, che avete voglia di saltare, e di non leggere, fatelo, saltatele, non leggetele, ci tornerete su dopo, se avete voglia, non importa, è un romanzo comunque popolare, in cui vi racconta, appunto, persone del popolo, e vi racconta di persone, che cercano di combattere, e tutta la loro vita, per cercare di affermare, loro stessi, i loro ideali, quello in cui credono, per cercare di, combattono per ciò che amano, e per le persone per cui amano, e cercano di sopravvivere, per le persone per cui amano, e, cioè, è veramente, è un romanzo incredibile, c'è tantissima disperazione, ma c'è veramente, tantissimo amore, in questo libro, cioè, che sia amore, appunto, per la patria, che sia amore, per delle altre persone, che sia, eh, veramente, è, è un romanzo, carico di tanti, di quei sentimenti diversi, questo libro, c'è di tutti e di più, ma dei personaggi pazzeschi, anche quelli che voi odiate, ciecamente, dall'inizio del romanzo, arriverete alla fine, che, cioè, vi si spezzerà magari il cuore, invece, quando, eh, quando invece, eh, questi capiscono, di aver sbagliato tutta la vita, cioè, io penso a un personaggio, che dalla prima pagina, crede, in una cosa, lui è convinto, e tutta la vita, lui passa, la passa con questa convinzione, e poi alla fine realizza, di aver sbagliato, e capisce, di aver passato tutta la vita, con una convinzione sbagliata, e ci sono queste pagine straordinarie, in cui lui, si rende conto, di non aver capito niente, e di aver sbagliato tutto, e, cioè, voi, nonostante, l'avete odiato, per tutto il libro, voi in quel momento, cioè, vi si spezza il cuore, per lui, capito, e voi vorreste andare da lui, e dire, sì, ok, è vero, hai sbagliato, hai sbagliato, non hai capito nulla, però, cioè, puoi fare qualcosa, adesso puoi far meglio, puoi andare avanti, e puoi cambiare, e, cioè, non lo so, è pazzesco, c'è un romanzo che vi fa fare una cosa del genere, ma dove cavolo, dove lo trovate un libro del genere? Mio Dio, è, non lo so, un romanzo che nel giro di due pagine, vi fa affezionare un personaggio, che dopo non vedete mai più, cioè, penso a Mirielle, Mirielle, voi lo incontrate per 20 pagine all'inizio del primo volume, basta, stop, e però voi ve lo ricorderete per sempre, Mirielle, quando vi viene citato, magari ogni tanto, da Jean Vanjean, voi dite Mirielle, Mirielle, cioè, però voi l'avete incontrato per 20 pagine, e basta, cioè, Hugo ha una penna incredibile, ha un modo di raccontarvi i personaggi, anche se compaiono per pochissimo, e voi li amerete fino alla fine, personaggi che magari, appunto, non vi cita per tantissime, 300 pagine, vi basta che vi dica il nome, cioè, mi sento male, se ripenso alla fine del libro, quando Jean Vanjean ritira in ballo Fantine, ed era tantissimo che Fantine non veniva nominata, e quando lui nomina Fantine, io, vi giuro, lì ho aperto veramente le dighe degli occhi, e ho detto, no, così a tradimento Fantine, tu non me la puoi nominare, cioè, è veramente di una bellezza incredibile, vabbè, raga, basta, basta, vale di miserabili, allora, altri, così, questo, altro club del mattone, vai, Guerra e Pace, Ministeri della BBC, quanto l'abbiamo amata, quanto abbiamo amato questo romanzo, nel salotto di lettura, quanto cavolo ci è piaciuto, Guerra e Pace, quanto abbiamo odiato dei personaggi, quanto l'abbiamo amata degli altri, è un romanzo che ci ha fatto scoprire, la storia, è un romanzo che ci ha fatto scoprire, non lo so, tantissimo, cioè, anche questo, come i miserabili, cioè, a tratti è quasi cinematografico, cioè, questo come ci presenta i personaggi, capito, siamo ad una, ad una riunione, a casa, di questa, madonna, ragazzi, scusate, ce la faccio più, adesso ve lo dico, a casa di Anna Pavlovna, e siamo da lei, e tutti questi personaggi, come a teatro, entrano in escena, entrano in escena, bellissimi, e lì, Tostoi, boom, 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 e vi li raccontano, e voi così, li vedete, li vedete, mentre entrano in scena, e mano a mano, voi li conoscete, conoscete i personaggi principali del romanzo, vado a Tostoi, pazzesco, cioè, in questo libro è veramente pazzesco, anche qui, c'è personaggi che, vi sembrano freddi, gelidi, e poi improvvisamente, eh, hanno questi momenti di rivelazione, e scoprono l'amore per la vita, poi Tostoi, vabbè, li tratta malissimo, perché Tostoi è questo trozzo, e quindi li tratta male, eh, personaggi di un'umanità, anche qui, incredibile, eh, alcuni sono quasi un po' delle macchette, e va bene, ma ci sta, però è incredibile, come vi, eh, cioè, come vi tiene incollati alle pagine, un romanzo del genere, cioè, sono quei libri che, tantissimi dicono, no, non lo leggo perché ho paura, ho il timore, perché ho paura che non mi piaccia, ho paura che non mi, non mi dica nulla, ho paura che non sia il romanzo che fa per me, eh, che, perché ha una nomina troppo importante, eh, guerra e pace, no, ragazzi, cioè, veramente, è un romanzo che vi appassionerà con tutte le vicende dei suoi personaggi, Andrei, Natasha, eh, veramente, tutti quanti, cioè, amerete odiare certi personaggi, Nicola Rosso, porca me, eh, cioè, ci sono alcuni che sono le canaglie, Dolokov, è una canaglia, però è adorabile, e, cioè, è impossibile, alla fine, che non vi piaccia, nonostante sia un imbecille, e, cioè, ce ne sono veramente tantissimi, eh, salotto di lettura, settembre 2015, gennaio 2016, pazzesco, c'è un romanzo veramente pazzesco, ci sono delle scene che sono indimenticabili, la scena del ballo, la scena del ballo, Natasha che guarda la luna, cioè, alla balconata, insieme a Sonia, ragazzi, scusate, scusate, cioè, no, no, cioè, anche questo romanzo è veramente incredibile e pazzesco, Sherlock Holmes, vabbè, io ne ho preso su uno a caso, il segno dei quattro, lo sapete, beh, BBC, non lo so, allora, c'è tutta, tutti i film con Jeremy Brett, tutti, saluto tantissimo, pagina Instagram, la stanza di Sherlock, mi raccomando andate a seguirla, grazie, ovviamente, il Benedict Cumberbatch, mi sembra chiaro, però veramente, c'è Sherlock Holmes, questo è imperdibile, l'amante di Lady Chatterley, anche qui, allora, il film della BBC, l'ultimo che hanno fatto, con Richard Madden, nonostante lui sia un buono del Dio, e con James Norton, non dimentichiamocelo, non ve lo consiglio tantissimo, perché secondo me è abbastanza una monnezzina, se non altro perché io, cioè, nel senso, in quel film, ho sentito più trasporto nei confronti di Clifford Chatterley, piuttosto che, che appunto Constance, la storia appunto di Lady Chatterley, che si sposa con Clifford, poi lui parte per la prima guerra mondiale, torna che è menomato, anche qui ci sarebbe da fare tutto il discorso del ritorno del soldato, la prima guerra mondiale, che vi evito perché ve l'ho già fatto 20.500 volte, è un romanzo che appunto Lores ha fatto, che ha scritto, scusate, come critica sociale, nei confronti appunto del fatto che la società inglese, se ne sia altamente fregata, di tutti quei soldati che sono tornati, con tutta una serie di menomazioni, dalla prima guerra mondiale, e appunto il fatto che, ovviamente è un romanzo anche dedicato a quella che è la liberalizzazione sessuale, è chiaro, anche questo è un tema molto importante, perché si sa che comunque fino all'età vittoriana, si era tutti molto pruriginosi nei confronti del sesso, e soprattutto per quanto riguarda la donna e il sesso, anche l'uomo, ma soprattutto la donna, e quindi quello che ha voluto fare qua a Lorenz, è raccontiamo di questa donna che invece gode dell'aspetto sessuale, chiaro che questo letto in età adolescenziale, per me era una roba altamente, neanche erotica, pornografica, letto da adulta, no, è un romanzo che è stato censurato, è un romanzo che è stato, se non state lette donne, chiaramente a Lorenz, perché è chiaro che per l'epoca fu un romanzo sconvolgente, molti come dire, lo conoscono di nome, ma pochi effettivamente l'hanno letto, quindi assolutamente consigliatissimo, super veloce Agatha Christie, c'è una riscoperta incredibile per quanto riguarda la BBC di Agatha Christie, cioè stanno sparando fuori 8500 serie televisive tratte da Agatha Christie, hanno iniziato nel 2015 appunto, quando fecero And Then There Were None, che da noi è Dieci Piccoli Indiani, anche se è più carino, e poi non ci fu più nessuno, quella con Aida Nonne Turner, quella scena di lui in asciugamano, che non voleva dire niente, ma lui piacque tantissimo, bello, per fare niente, bello stesso, romanzo meraviglioso, questo bisogna consigliare ai ragazzini a leggere a scuola, questo, ecco, quando a me chiedono i ragazzini le ripetizioni, chiedevano quelli delle medie, perché adesso purtroppo non li ho più quelli delle medie, sono quelli delle superiori, che sono faticosi, a me piacevano i ragazzini delle medie, cosa leggo già per l'estate? Questo, io a tutti davo questo, ragazzi, leggete Agatha Christie, perché Agatha Christie, secondo me è bellissimo da leggere questo, Sherlock Holmes, i gialli ragazzi, perché secondo me li vuoi appassionare un po' alla lettura, dagli qualcosa che li tenga incollati alle pagine, gli devi dare gli horror e i gialli, perché sono intriganti, perché si appassionano, perché devono scoprire, perché anche loro partecipano alla lettura, cioè non è la questione del, è qualcosa di leggero da leggere d'estate, no, è che è il ragazzino che si rompe le palle a leggere, perché purtroppo tanti ragazzini si rompono le palle a leggere, se però tu li coinvolgi, no, nella lettura, nel senso che ti dico, cerca di capire tu prima, prima di me, che te lo dico, cerca di capirlo tu, prima chi è stato a fare questa cosa, cioè allora capito, questi lo leggono molto volentieri, è uguale nell'horror, no, cerca di capire prima il mistero sotto, no, il mostro, chi è realmente, e loro si incuriosiscono, e loro lo leggono più volentieri, cioè secondo me il trucco è un po' quello, ecco perché gli piace ai ragazzini, di solito i romanzi gialli, perché vogliono scapire un po' l'inghippo, il trucco, cioè è quello un po' il, cioè perché piace così tanto, e quindi di solito Agatha Christie piace sempre, questo infatti, cioè io mi ricordo che quando lo consigliai a questa ragazzina, poi in classe si misero a leggere tutti, e tutti fecero la gara che ci arrivava prima, no, a scoprire chi era il killer, perché è un classico poliziesco scatola chiusa, no, in cui ci sono appunto tutti i dieci personaggi, su st'isola, e per forza deve essere stato uno di loro, e quindi erano tutti i dieci, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato quell'altro, bellissimo, infatti mi piaceva perché lei tutti i giorni veniva lì e mi diceva, ma è stato questo, ma è stato questo, vai avanti a leggere, vai avanti a leggere, no, devo indovinare io, non devo indovinare il mio compagno di classe, stupendo. Un altro che vi consiglia, anche questo, delle due verità, che anche questo, ne avevamo fatto una trasposizione televisiva, con uno dei due giamelli thread away, non mi ricordo mai se è Luke o Harry, Luke, secondo me era Luke, aspettate, cioè non che lo scoprirò qua dietro, però, allora, le due verità era quello, aspettate, sono rimbambi, c'ho ancora un libro di cui parlare, no, ne ho ancora più di uno, aiuto, allora, aspettate, se no me li dimentico, quindi, allora, le due verità, lo so, lo so, dovrei tagliare, ma non ce la posso fare, allora, la famiglia Argil deve affrontare vecchie ferite, quando si scopre che Jack, la peccola nera del clan, potrebbe non aver ucciso l'oppressiva matriarcha, e che uno di loro potrebbe essere il vero assassino, e queste erano le due verità, perché arrivava questo personaggio, che dice, no, non è possibile, che sia stato Jack, perché l'aveva incrociato, l'aveva visto, cos'era successo, l'aveva investito, non mi ricordo, vabbè, comunque anche questo super consigliato, poi, doesn't need presentation, perché vabbè, cime tempestose, anche questo, quante 8500 trasposizioni, le abbiamo fatto pure noi in Italia, come Rebecca la prima moglie, sempre con Alessio Boni, tra l'altro so che ci penso, pure di cime tempestose, pure di Rebecca la prima moglie, ci stanno le, perché buono, Alessio Boni con le Bronte ci piace, lo associamo alle Bronte, cosa sto dicendo, dovrebbe essere la prima moglie, che è delle Bronte, di Deaths, salva me, Fanford, romanzo di Elizabeth Gaskell, che è stato pubblicato, sulla rivista, anche questo, di Charles Dickens, racconta tutta una serie di episodi, della vita di Mary Smith, che è questa narratrice in prima persona, e di tutte le sue anziane amiche, che sono due sorelle, ancora zitelle, sono appunto ambientate in queste, appunto in questa cittadina, che è immaginaria, e ci sono tutta questa serie di avvenimenti, è un villaggio, in cui ci sono tutte appunto queste donne, dominate soprattutto la donne, ambientate in età vittoriana, e anche qui si fanno tutta una serie di riflessioni, sulle differenze di classi sociali, e quant'altro, questo è adorabile, vi consiglio assolutamente di recuperarlo, poi, questo non l'ho letto, ma ho visto la serie televisiva, ma è uscito per Fazze Editore, ed è Daniel De Ronda, Daniel De Ronda è stata scritta da George Eliot, autrice importantissima dell'età vittoriana, che è stata poi riscoperta, è un'atrice che si è concentrata soprattutto sulle classi sociali, meno ambienti, sugli umidi, quindi è sicuramente un'autrice, come dire, meno frizzantina, ecco, rispetto magari a un Teckery, a un Dickens e quant'altro, però, Daniel De Ronda, dunque, la trama di Daniel De Ronda ve la leggo, perché io la miniserie l'ho vista, ma ne parliamo più di dieci anni fa, segue due filoni principali, uniti dal personaggio che dà il titolo al romanzo, e il racconto inizia con il misterioso incontro di Daniel De Ronda, di Gwendoline Arloth, in una città tedesca, Daniel allo stesso tempo attratto e sospettito, dalla bella e testarda egoista, Gwendoline, che davanti a lui perde tutte le sue vincite, a un gioco di roulette, il giorno seguente Gwendoline riceve una lettera da sua madre, che le dice della rovina economica della famiglia, e la scongiura di tornare a casa, quindi Gwendoline decide di impegnare una delle sue collane, vuole giocare di nuovo alla roulette, che succede? La trama si interrompe, poi ci sono dei flashback, e poi vi racconta la storia, sia di Gwendoline, che quella di Daniel De Ronda, che non vi sto, adesso mi sono venuti degli sprazzi in mente, allora, esiste una miniseria televisiva, che è di un bel po' di anni fa, con Hugh Dancy, e con meravigliosa Romola Gary, che vi consiglio di recuperare, è satira sociale, ricerca della morale, qua vi dice, quant'altro, allora, la storia è interessante, è meno frinzattina, vi ripeto, rispetto a un Cranford, rispetto a una fila delle varietà, rispetto a tutto il resto, è un po' più, Giorgilio è un po' più pesante, ecco, rispetto a tutto il resto, scusate se corro, ma se no, qua veramente, 13 anni sto video, Nord e Sud, di Elisabeth Caskel, scusate, mi sono dimenticata, come si può, non dimenticare di Richard, ah, Miteggio non lo so, scusate, allora, Nord e Sud, è tipo, è stato il nostro primo saluto, è stato il nostro primo saluto di lettura, può essere? Nord e Sud, romanzo meraviglioso, che vi consiglio di recuperare, se non l'avete mai letto, che è di una bellezza straordinaria, spero che si trovi ancora, edito Joe Marche Edizioni, era Elliot prima, Edizioni, spero che, cioè, dovrebbe esserci ancora, anche questo è stato pubblicato per la rivista di Charles Dickens, la protagonista è Margaret Hale, che appunto si trasferisce con la famiglia Milton, che è una città industriale, qui entra Margaret in contatto con la realtà, lei è strana, la lotta di classe tra gli operai padroni, e come beh, col degrado sociale e via dicendo, e appunto poi conosce il padrone di questa fabbrica, che è giunto a questo rapporto di oggi amore, e quant'altro, che va bene, poi mi sento di segnalarvi, anche se io non l'ho ancora letto, La vita oggi, che in inglese è The Way We Live Now, di Anthony Trollope, che è di, è edito da Sellerio, Anthony Trollope è tipo Tecquere, cioè, cioè come scrittura, io ho letto solo dei pezzi, perché l'ho studiato, ma non l'ho mai letto per intero, Trollope anche lui fa critica sociale, un autore dell'età vittoriana, ce ne fosse uno che durante l'età vittoriana ha detto, bella l'età vittoriana, quanto mi ha piaciuto l'età vittoriana, che è tutto incazzato in neri con la regina Vittoria, quindi anche lui fa critica sociale, ha scritto una marea di romanzi, li stampa la Sellerio, il problema è che voi sapete, la Sellerio non è che si adegua alla portata del romanzo, la Sellerio li stampa comunque tutti uguali, che il romanzo sia così, che il romanzo sia così, ve lo dico perché in teoria, penso tra fine luglio ed agosto, dovrebbero esserci gli sconti di Sellerio, quindi se avete voluto, no in realtà non è vero, a volte la Sellerio li allarga un po' di formato, con quelli Trollope comunque sono piccoli, piccoli ma alti, quindi se volete recuperare qualche romanzo di Trollope, ve lo consiglio, tra cui appunto anche questo, di cui adesso vi andrò a leggere la trama magicamente, e mi scuserete se ho dovuto fare questa volata di Trollope, allora, oltre ad essere il più lungo la vita oggi, anche il più grande dei romanzi dentro di Trollope, l'opera in cui meglio risalta il suo genio letterario, il genio vittoriale che si affianca a quello di Dickas, di Tackeray e la detta di R. James, vabbè ma R. James comunque a posto di, piccoli giorni, ci ha una data di doni R. James, cioè voi vi studiate un qualsiasi manuale di storia e letteratura, di letterature comparate, R. James ci ha una data di per tutti, e lui si sveglia la mattina e dice, ma che posso criticare oggi? Te, così, dopo ci trovava quelli che gli rispondevano male, infatti, i bici, e chissà perché. Trollope, se mi ha detto, è proprio fastoso del narratore, vabbè oniscente, vale a dire il modo di raccontare in cui il lettore è invitato a spolverare i più nascosti angoli delle situazioni e delle vicende dei stati d'animo, è un'ambiziosa satira sociale, fu ispirato ad una serie di scandali finanziari degli anni 70 e dell'Ottocento, decine di personaggi attorno nel protagonista principale, un finanziere August Mimot, dallo scuro passato che impianta a Londra famiglia, affari e vita sociale, si imbarca in un colossale investimento che attrae e travolge, segnando innanzitutto la sua propria scesa caduta, capitale, talenti, fortune ed entusiasme provenienti da ogni parte della steguazia, del denaro e dei titoli. E poi ci sono tutti i personaggi che ruotano attorno a questo protagonista, sono 1182 pedwine, e questo è Trollope. Di questo esiste una miniserie televisiva di non so quanti trilioni di anni fa, perché c'era un giovanissimo, Kiliam Murphy, ve lo volevo dire soltanto per questo. Cioè, vi ho citato questo che io non l'ho letto, conosco Trollope appunto soltanto di nome, ma ve lo dico soltanto perché c'è Kiliam Murphy, che ci piace sempre tanto, Kiliam Murphy, bisogna citarlo sempre, perché dove è importante, Kiliam Murphy, che venga citato. Mi sono dimenticata qualcosa? Non lo so, probabilmente sì. Chi lo sa? No, Casa Howard, sì, ve l'ho detto. Ah, la miniserie Casa Howard sa su Prime Video se fate l'abbonamento a Starz. Non vi fate fregare, perché su Prime vi mette la copertina di Casa Howard, però quello lì è il film di James Highbury, non è la miniserie televisiva. Perché vi dico questa cosa? Perché tanto lo so che vi interessa andare a vedere la serie televisiva, ma non me ne frega nulla è il film di James Highbury, che è bello anche il film di James Highbury, però tanto tutti noi adesso in questo momento storico vogliamo andarci a vedere la serie televisiva perché ci sta Joseph Quinn. C'è il film di James Highbury, sì, bello, però non c'è Joseph Queen, quindi che manco era nato, tra l'altro mi sa quando è uscita il film di James Highbury. Quindi, ragazzone e ragazzone, fatemi sapere, io credo che sto crepando, mi sto sciogliendo in questo momento, mi allontano prima che, ecco, mi sto sciogliendo, fatemi sapere se vi sono piaciuti questi romanzi, scusatemi se, come dire, ho un po' corso, spero così che questo video vi sia piaciuto, sono stata un po' troppo rapida, l'ho detto troppe volte, basta, la smetto, vi auguro buone letture, qua sotto trovate i contatti a Instagram e Twitter, noi ci vediamo molto presto, vi volevo dire altre cose, non me lo ricordo, fatemi sapere quali sono le vostre letture, ne fa tempo per l'estate, buone vacanze, buono studio, buon lavoro, buon tutto, buone cose, buone letture, un bacio e un abbraccio, a distanza prima che vi attacco cose.